Avanti a oltranza con la protesta, il governo non ha ancora battuto un colpo, fa sapere uno dei leader del coordinamento 9 dicembre, il movimento dei Forconi, per intenderci Mariano Ferro, e allora si proseguirà ma senza marcia su Roma. La manifestazione nella capitale infatti sarà ridotta a un più mite e meno potenzialmente esplosivo maxipresidio permanente che comincerà mercoledì prossimo e non oggi come invece inizialmente era stato previsto. Nessun corteo anche, dicono i leader dei Forconi, per evitare qualsiasi tipo di infiltrazioni che non appartengono al movimento. Ieri in tutta Italia la tensione è tornata sotto i livelli di guardia che aveva raggiunto nei giorni precedenti, un po' ovunque nella penisola i blocchi si sono diradati, Torino, zona molto calda della protesta nel corso della settimana, ha vissuto finalmente una giornata tranquilla per quanto scossa dalle dimissioni poi respinte dal ministro dell'interno del prefetto, mentre a Trani la procura ha aperto un'inchiesta sulle presunte minacce e violenze subite dai commercianti costretti a chiudere i propri esercizi a Barletta nel primo giorno della protesta. Sette sono le persone denunciate dai carabinieri per violenza privata, ma a tenere banco ieri sono state le dichiarazioni dal sapore tristemente antisemita, rilasciate al quotidiano La Repubblica da una delle figure di spicco del movimento di Torino, Andrea Zunino, sullo strapotere economico dei banchieri ebrei, parole che hanno suscitato l'indignazione di tutto il mondo politico e delle varie comunità religiose, a cominciare ovviamente da quella ebraica. Da malati mentali le ha definite invece Mariano Ferro, a suo avviso si tratta di gente che parla a titolo personale, ma capire chi davvero parla a nome di un movimento estremamente eterogeneo e per molti versi acefalo è ormai sempre più complicato.